La presidenza della Regione Lazio organizza la terza edizione della Settimana per la Legalità. Cinque giorni di spettacoli, incontri e dibattiti tra studenti, protagonisti e testimoni della lotta alla mafia, delle istituzioni e della cultura. Al Teatro Piccolo Eliseo di Roma dal 10 al 14 marzo. Per informazioni 064882114. Settimana per la Legalità. Con le armi della cultura, la libertà la sceglie.